Ci sono sempre venuto quando non ho giocato ad altri tornei, avevo la possibilità di venire qua e ho sempre piacere di tornare. Qual è il momento? Con che tennis arrivi qui al Poseidon? Diciamo un momento buono, un momento buono in cui ho riniziato l'attività internazionale e quindi spero di far bene quest'anno. Ho ricominciato a giocare da poco e ho avuto bei risultati, quindi diciamo che stiamo in ascesa. Funziona così, quando non hai uno sponsor dietro devi prima fare gli open per fare un po' di cassa e poi andare a fare i 10.000 e i challenge. Ho 25 anni e ancora penso che ho tre anni per far bene, per almeno provarci e quindi riuscire a fare il meglio in questi tre anni. Adesso che sono iniziati i campionati a squadra ci ritroviamo i brasiliani, gli argentini. Comunque è bello giocare anche con i sudamericani, visto che io sono anche sudamericano, però vivo qua. Quindi si giocano bei tornei. Le prime quattro teste di serie siamo tutti sudamericani. Bene, un bel torneo, bei giocatori e spero di comunque far bene. È bello, a parte che la tribuna è enorme e poi c'è il pubblico che comunque si fa sentire. Quindi vieni sempre con piacere? Sì, vengo sempre qua al Poseidon con piacere perché conosco molto il presidente, c'è la gente che sta dietro dell'organizzazione, quindi torno con piacere.